Il programma ambizioso, pensato in origine per le festività natalizie, dovrà essere rivisto a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle quotazioni degli artisti, ma gli eventi previsti a Pescara si faranno comunque. Il Natale dunque sarà salvo, ad annunciarlo è Alfredo Cremonese, assessore ai grandi eventi del Comune di Pescara. Il programma continua ad essere ambizioso. Noi abbiamo studiato un programma per la città di Pescara che si articola in tre proposte fondamentali. Una proposta dedicata a un format che già abbiamo proposto nel 2019, dedicato ai bambini, con la città dei bambini, poi dei micro eventi a supporto del commercio cittadino e i classici grandi eventi del 31 e dell'1. Per questo gli uffici hanno fatto questa manifestazione di interesse e da pochi giorni abbiamo visto le quotazioni, i prezzi sono molto elevati rispetto a quelli che erano negli anni passati. Chiaramente questo farà in modo che il Comune dovrà fare delle scelte oculate anche per il periodo che stiamo vivendo e quindi il nostro programma sicuramente dovrà essere rivisto garantendo sempre la massima qualità che il Comune vuole offrire perché creare gli eventi è importante, lo ripeto sempre, non solo perché abbiamo tantissime persone che si riversano sul territorio cittadino ma anche perché fungono da marketing territoriale per la città. Quindi possiamo dire che i grandi concerti, quello del 31 dicembre e del 1 gennaio, sono salvi? Sicuramente uno dei due giorni sarà dedicato a un grande evento, se ci riusciamo anche entrambe le sere. Chiaramente, ripeto, i prezzi che stiamo verificando sono dei prezzi importanti, noi vogliamo in questo momento essere responsabili e quindi sicuramente faremo delle scelte che tra pochi giorni spero di poter comunicare alla cittadinanza. Quanto ai nomi previsti per i concerti, l'assessore cremonese non anticipa nulla per non bruciare l'effetto sorpresa, ma la presenza di un big dovrebbe comunque essere assicurata. E se ad anticipare l'atmosfera natalizia in centro ci hanno pensato i mercatini su Corso Umberto, dall'8 dicembre, come da tradizione, si entrerà nel vivo del Natale con l'accensione delle luminarie e della filodiffusione e l'apertura al pubblico della pista di pattinaggio su ghiaccio a Piazza Salotto. L'amministrazione anche su questo ha garantito le luminarie, chiaramente in maniera rivista rispetto agli altri anni, dove noi non solo accendiamo le luminarie a fine novembre in occasione del Black Friday, siamo stati la prima amministrazione a farlo e anche in tutta la città. Purtroppo questa scelta non può essere percorsa perché, ripeto, i costi sono altissimi. Giusto per dare un dato, le spese di energia elettrica del comune erano circa 4 milioni e 8, siamo arrivati oltre i 12 milioni di euro. Per questa ragione abbiamo dovuto fare delle scelte, le luminarie saranno garantite nel centro commerciale naturale, cioè nel centro dedicato allo shopping e al passeggio, mentre in tutti gli altri quartieri garantiremo dei simboli del Natale, proprio perché tutta la città deve essere coinvolta con lo spirito natalizio.